Eccomi qua, sto qui a casa davanti a un olivo antico che quando avevo i figli piccoli avevamo fatto una casetta sull'albero e ci sono cresciuti qui davanti. Consegne a domicilio no, i nascoli non li facciamo perché abbiamo chiuso il negozio il 13 quando è stato quindi la cucina è chiusa quindi sarebbe stato impossibile farlo. Stiamo lavorando un pochetto poco lì in un laboratorio per seguire un po' di negozi per il resto abbiamo in classe integrazione tutti, poi aspettiamo gli eventi e faremo il meglio. No, non prevedo di licenziare, non vedo perché, anche perché una volta riaperti io penso che si riparta.